C'è un centro estetico a Verona che dopo varie ricerche per riequilibrare il corpo ha realizzato un massaggio con l'uso delle campane tibetane in un modo naturale. È l'Istituto Fata Morgana. Attraverso l'onda vibrazionale delle campane tibetane si migliora la postura dando benessere. Fata Morgana, via Stella 9, tutto un altro mondo. C'è un centro estetico a Verona che dopo varie ricerche per riequilibrare il corpo ha realizzato un massaggio con l'uso delle campane tibetane in un modo naturale. È l'Istituto Fata Morgana. Attraverso l'onda vibrazionale delle campane tibetane si migliora la postura dando benessere. Fata Morgana, via Stella 9, tutto un altro mondo.